Il Catechismo della Chiesa Cattolica si apre con il desiderio di ogni uomo che porta con sé l'anelito verso Dio e si conclude con la preghiera come espressione di un incontro dove l'uomo e Dio si guardano, parlano e ascoltano. Scrive così Papa Francesco nella presentazione della nuova edizione del Catechismo a 25 anni dalla firma della Costituzione Apostolica Fidei Depositum da parte di San Giovanni Paolo II che accompagnava l'uscita del Catechismo a 30 anni dal Concilio Vaticano II. Mercoledì pomeriggio la commemorazione nell'Aula del Sinodo promossa dal Pontificio Consiglio per la Nuova Evangelizzazione. Nel suo intervento il Papa ribadisce che la tradizione è una realtà viva. La parola di Dio non può essere conservata in naftalina come se trattasse di una vecchia coperta da proteggere contro i parassiti. No, la parola di Dio è una realtà dinamica, sempre viva, che progredisce e cresce perché è tessa verso un compimento che gli uomini non possono formare. Non si può conservare la dottrina senza farla progredire né la si può legare a una lettura ricida e immutabile senza umiliare l'azione dello Spirito Santo. Su questa scia si inserisce la decisa condanna della pena di morte da parte di Papa Francesco. Ricordando il ricorso che se ne fece nello Stato Pontificio, il Pontifice parla di una pratica che allora era frutto di una mentalità più legalistica che cristiana. Si deve affermare con forza che la condanna alla pena di morte è una misura disumana che umilia, in qualsiasi modo venga perseguita, la dignità personale. È in sé stessa contraria al Vangelo, perché viene deciso volontariamente di sopprimere una vita umana che è sempre sacra agli occhi del Creatore e di cui Dio solo, in ultima analisi, è vero giudice e garante. La fede sembra diventata come la braccia del fuoco che arde, ma non è più una fiamma viva, capace di dare sostegno all'esistenza. Per questo, sottolinea Monsignorino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la Nuova Evangelizzazione, è necessario dare nuovo impulso e, pertanto, la nuova edizione del Catechismo può offrire un contributo importante. Questo commento, nuovo commento che abbiamo fatto con più di 40 teologi e pastoralisti, catecheti, sta ad indicare non solo l'interesse, ma anche il desiderio di trovare, come dice spesso Papa Francesco, un linguaggio nuovo, una capacità di poter esprimere la fede di sempre attraverso delle nuove forme, delle nuove espressioni, dei nuovi segni che mostrino, da una parte, la continuità, ma dall'altra, anche l'apertura verso i nuovi problemi che il mondo di oggi deve affrontare. Il Cardinale Christo Schomber, arcipescovo di Vienna, partecipò alla stesura del testo del Catechismo, un'esperienza esaltante che ancora oggi dimostra come la Chiesa sia sempre in cammino. Io direi, semplicemente, è stata probabilmente la cosa più importante della mia vita. Questi cinque anni, dall'87 fino al 92, come segretario di redazione, un'esperienza fantastica di lavoro, di comunione, ma anzitutto di fede, perché la sfida era di presentare la fede cattolica non in pezzi, ma in una sintesi organica, come in una sinfonia. E lavorare a questa grande opera, sotto la guida dell'allora Cardinale Razzina, è stato un grande, grande privilegio, una bellissima esperienza, anche intensa. Io penso che il Catechismo è una sorgente per la vita cristiana. E io spero che molti fedeli, ognuno, uomini, donne, giovani, adulti, possano camminare col Catechismo facendo l'esperienza della bellezza della fede, ma anche scoprire, per esempio, l'importanza del Ministero della Trinità, della creazione, della redenzione, cosa significa. E per tutto questo il Catechismo è uno strumento straordinario.